L'esperienza è stata molto molto bonita perché l'università ti permette tramite il corso all'anno di essere uno studente libero, ti puoi organizzare le ore di studi e quant'altro, però questo non significa che l'università non ti segue, ti segue moltissimo, di fatti ci sono delle 11 prove in itinere che ti permettono di stare al passo con le lezioni e poi la responsabilità Erasmus che è meravigliosa mi ha aiutato tantissimo. Elegire l'università Primera perché mi gusta molto la Spagna, perché è un'università online come la misma in Italia, perché il popolo spagnolo è molto simile al popolo italiano, insomma, ci sono molte caratteristiche che le contraddistinguono. L'università online per me è stata sia in Italia sia qui una scelta un po' forzata ma l'unica scelta perché io lavoravo in Italia e quindi ho dovuto scegliere l'università online e qui è diventata una scelta ma pure un'opportunità, insomma. L'università online è un'opportunità, ti permette appunto di gestire il tempo come vuoi e credo che nel terzo millennio bisogna andare avanti e portarsi avanti con un'università telematica invece che no. Credo conoscere molte persone qui, perché Burgos è il cammino di San Diego. Credo l'esperienza, l'esperienza poi che ti danno, ti donano le persone. I professori all'università Primera è molto disponibile, nel mio caso specifico Anna, è molto disponibile, ti segue tantissimo, è positiva. Appena andrò via dirò una rivederci. Come dicevo prima, si lo raccomando, è bene.